Salve a tutti ragazzi, oggi siamo su Pokémon Rosso Fuoco, anche se so che è un gioco che nel 2021 non va come andava prima, però è sempre un gioco Pokémon, i giochi Pokémon sono molto amati, voglio portarvi una serie su un gioco, Pokémon ovviamente, e ho scelto Pokémon Rosso Fuoco perché non l'ho giocato, è uno dei primi usciti, quindi volevo provarlo meno poi, e ho deciso di farlo proprio qui, e vi annuncio che, vabbè ora iniziamo come sempre con il professore, dopo ci faccio il test starter, vi annuncio che parlerò veramente poco e niente perché nei World2 non parlo quasi mai anche nei miei vecchi canali, e vi lascio anche in ebrei, ora dobbiamo scegliere il nostro nome, e ovviamente noi ci chiameremo anche nel gioco Shadow, e questa serie la sto registrando così da farvela uscire giornalmente, allora questo qui è tutto, vi lascio la serie e 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 ok abbiamo incontrato questo spiro che io sinceramente cattolerei perché mi sembra un po' un pokemon ma sì dai catturiamolo così mettiamo la nostra squadra tanto ci serviranno prima o poi altri pokemon e 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 non mi salva niente vabbè possiamo anche catturarlo non ci credo non ci credo perché ho catturato quel cadere più lo voglio troppo non ci credo non ci credo lo voglio troppo no ragazzi nel prossimo episodio io lo avvio con pikachu lo voglio troppo ve lo dico io lo avvio con pikachu intanto le chiamoci al posto dove dobbiamo andare e 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